Prima cosa da fare è scomporre in fattori il radicando 12 con un metodo classico, eccolo qua, quindi 12 è pari, quindi è divisibile per 2, da qui viene 6, divisibile per 2 è 3, divisibile per 3 viene 1, quindi abbiamo che 12 è uguale a 2 alla seconda per 3. Naturalmente se riuscite, almeno con i numeri piccoli e anche con gli altri a fare a mente, nessuno si offende, altrimenti questo metodo vi assicura la scomposizione, quindi possiamo riproporre al posto di radice di 12, eccola qua, la radice di 2 alla seconda per 3. Ora, una volta ottenuta una scomposizione di fattori, possiamo trasportare un fattore fuori dal segno della radice, questo è fondamentale, mi raccomando, se all'interno avete ad esempio 2 alla seconda più 3, 2 alla seconda non può essere trasportato fuori, c'è bisogno di un prodotto, eventualmente di un rapporto con fattori al denominatore, ma di questo caso parleremo in altre sedi. Ora, quello che possiamo fare, e vi spiegherò dopo il perché, è trasportare tutti i fattori, in questo caso 2 alla seconda, che hanno un esponente divisibile per l'indice di radice, che in questo caso è 2, e l'operazione fondamentalmente è quella di portare il 2 all'esterno con un esponente pari a 1, che è proprio il risultato della divisione tra l'esponente 2 interno e l'indice di radice, il tutto moltiplicato per la radice di 3. Ora, perché possiamo trasportare tutti i fattori che hanno esponente divisibile per l'indice di radice? semplicemente perché le radici quadrate, così come tutti i radicali, nel frattempo sto cercando la penna, eccola qua, sono delle potenze, quindi tecnicamente io potrei riscrivere radice di 2 alla seconda per 3 come 2 alla seconda per 3, tutto elevato alla un mezzo. Applicando il proprietario alle potenze, questo viene scritto come il prodotto di 2 alla seconda alla un mezzo per 3 alla un mezzo, quindi abbiamo anche un briciolo di dimostrazione. Ora, esponente per esponente, in entrambi i casi abbiamo 2 alla due mezzi, che è 1, 2 alla 1, naturalmente, anche lasciando il 3 come 3 alla un mezzo, e ricordandomi che appunto alla un mezzo equivale alla radice quadrata, possiamo scrivere questa espressione come 2 radice di 3. Ora, naturalmente, nello svolgimento dell'esercizio non andremo a fare tutti questi calcoli che cancello immediatamente, eccoci qua, ma sfrutteremo questa proprietà appunto legata alla natura delle radici che sono potenze esponenti razionali, semplicemente trasportando appunto tutti i fattori che hanno l'esponente divisibile per l'indice di radice all'esterno, e ponendo come nuovo esponente il risultato della divisione tra l'esponente di partenza e l'indice. Ma andiamo avanti. Procediamo quindi in maniera analoga al caso precedente, andando a scomporre in fattori 72, lo faccio qui, ho un numero pari diviso 2, 36, ancora pari diviso 2, 18, ancora pari diviso 2, 9, divisibile per 3, fa 3, divisibile per 3, 1. La scomposizione, guardate, è 2 alla terza, ci sono tre fattori pari a 2, per 3 alla seconda. Quindi andiamolo a scrivere all'interno del radicando e ragioniamo come nel caso precedente. Dalla scomposizione abbiamo ottenuto, guardate, un 3 alla seconda, che è un esponente divisibile per l'indice che è pari a 2, 2 diviso 2 fa 1, e quindi posso trasportarlo fuori scrivendo 3 alla 1. E adesso attenzione a questo fattore 2 alla terza, perché è vero che il suo esponente 3 non è divisibile per 2, ma nel caso in cui, attenzione, l'esponente risulta comunque essere un numero maggiore, un numero naturale maggiore dell'indice di radice, qualcosa si può fare. Per esempio, potrei scrivere 2 alla terza come 2 alla seconda per 2 alla 1. Pensateci, il prodotto di queste due potenze produce come risultato una potenza con base pari alla stessa base, 2 esponente pari alla somma degli esponenti, 2 più l'esponente sottinteso in questo caso, nel secondo è 1, 2 più 1, 3. Quindi ho fatto un'operazione corretta seguendo appunto regole ben precise. E in questo caso qui, il 2 alla seconda può essere trasportato fuori, come il 3, appunto come fattore 2 alla 1. E quindi, avendo due fattori, 3 e 2 all'esterno, potremmo ottenere, a questo punto, 6 radice di 2. Ora, torniamo un attimo su questo passaggio. Come faccio a capire come scomporre una potenza con esponente maggiore di 1? Ci sono varie tecniche. Quella che suggerisco io è di cercare di trovare due numeri che sommati diano appunto 3. Uno di questi numeri, che io metterei all'inizio, deve essere il massimo esponente possibile, che potete ricavare appunto tra la scelta di questi due numeri che sommati devono dare 3, che sia appunto divisibile per l'indice di radice 2. Faccio un esempio. Se non ci fosse stato 2 alla terza, ma 2 alla quinta, potevate scomporre in 4 più 1, perché 4 è il massimo esponente più piccolo del numero 5 di partenza, divisibile per 2. 2 alla nona, potevate scomporre come 2 all'ottava per 2, con 8 divisibile per 2. Spero che sia chiaro questo piccolo passaggio, ma per rendere ancora un po' più strutturato andiamo all'ultimo esercizio. In questo caso abbiamo anche un fattore con una lettera, x alla settima. Ora, da un punto di vista dell'algoritmo, non ci sono problemi, nel senso che dovete tranquillamente utilizzare la stessa tecnica di prima, applicandola anche ai fattori letterali, purché appunto siano dei fattori. E qui abbiamo un prodotto tra 48 che possiamo scomporre in 2 alla quarta per 3, questa volta fidatevi, ve lo offro io in omaggio, perché 2 alla quarta è 16 che per 3 fa 48, provare per credere, per x alla settima. Abbiamo tre fattori. Utilizziamo lo stesso principio usato in precedenza per il trasporto fuori dal segno di radice. Per esempio, 2 alla quarta è un fattore che ha un esponente divisibile per 2 e 4 diviso 2 produce come risultato 2. Quindi in questo caso avremo 2 alla seconda. Ci restano all'interno della radice il 3 e x alla settima che ha un esponente maggiore di 2 e che quindi possiamo scomporre nel prodotto di due fattori con due esponenti, la cui somma è pari a 7 che io proporrei in questo modo. x alla sesta per x. Ho isolato nel primo caso l'esponente massimo più piccolo di 7 che però risulta divisibile per 2. Naturalmente qui ci devo mettere il termine che avanza. 7 meno 6 fa 1. Ricordatevi le potenze che ottenete devono proporre due esponenti che sommati diano quello di partenza. A questo punto x alla sesta può essere trasportato fuori dal segno di radice. Eccolo qua. 2 alla seconda naturalmente possiamo ricomporlo come 4 e ottenere il risultato finale. Ora avrei dovuto porre delle condizioni rispetto all'esistenza della radice sulla variabile x. Tuttavia non la stiamo trattando in questo caso come una variabile ma come una lettera per ottenere l'obiettivo di trasportare dei fattori fuori dal segno di radice. Quindi questo aspetto lo tratterò in altre video lezioni. Tra l'atto vi incollo un'altra maxilezione sui radicali che appairà da qualche istante qui in alto. Vi ricordo di fare attenzione anche agli indici di radice. abbiamo lavorato con indice 2 ma tecnicamente ci fosse stato un 3 avreste dovuto lavorare in maniera analoga però potendo trasportare fuori dal segno di radice tutti i fattori mi raccomando termini di un prodotto che definisce complessivamente il radicando con esponente divisibile per 3 sia nel caso in cui magari l'esponente di partenza dei vari fattori è già divisibile per 3 sia nel caso come quello delle x in cui in questo caso abbiamo dovuto scomporre in due isolate un esponente divisibile per l'indice che sia 2, 3, 4 altri non c'è problema e lavorate in questo senso. Spero che la lezione vi sia piaciuta se è così lasciate un like se c'è qualche dubbio commentate e iscrivetevi e condividete il mio canale per aiutarmi a sostenere questa mia condivisione di informazioni di matematica sui social. Ciao, alla prossima lezione!